Buonasera a tutti, benvenuti, buonasera Gaetano, buonasera a tutti coloro che mi stanno seguendo e anche a chi non mi sta seguendo. Allora, vediamo se sono in diretta, aspetto qualche secondo perché quando inizia il collegamento ti sembra praticamente di parlare con te stessa. Ok, ciao Sara, ciao Stefania, ok allora sono in diretta, perfetto. Mirella, ciao Mirella, grazie per il tuo sostegno, sempre, grazie. Lorna, Anna, buonasera a tutti. Ciao Mirella, mi sembra di conoscerti da sempre, sono entrata in empatia con te. Roberta, Marianna, ciao Marianna, Simone, ciao Simone, buonasera, Brunella, ciao a tutti. Io vi saluto così faccio passare quei due o tre minuti affinché entriamo tutti nella diretta e poi cominciamo subito. Danila, buonasera, Katia, Marilena, che poi pensate, quando magari guardo altre dirette di altri operatori, Roberta, ciao, Cristina, ciao Cristina, la nostra segretaria della scuola Enigma, ciao Cristina, mi sembra quando voi scrivete o io scrivo comunque di, cioè mi sento che faccio parte anche del vostro gruppo, quindi dall'altra parte, ed è meraviglioso. Ciao Agnese, ciao Katia, ciao Serena, Gabriella, ciao Gabriella, nostra allieva, bacino, Angela, buonasera a tutti. Allora, io direi che possiamo anche cominciare. Io nella mia umiltà ho, diciamo, lanciato una piccola sfida al mondo spirituale, sfida se così vogliamo dire, perché è un rapporto, credo, di amore il nostro, cioè il mio con loro, e gli ho detto, vediamo se siete così bravi, non io, loro, ho messo in discussione loro, dico io vorrei fare più contatti possibili, perché mi sono resa conto che a volte se ne fanno due, tre, ma anche quattro, una volta sono riuscita a farne cinque. E quindi, dico, noi siamo disciplinati qui sulla terra, voi quando c'è il contatto, mi raccomando, non scrivete durante il contatto, così io non mi distraggo e non perdo la connessione su e giù, su e giù. E loro si impegneranno a darmi magari delle informazioni più precise, quindi di capire nel gruppo se ci sono più persone che hanno delle evidenze simili e portare quella che invece ci aiuta a riconoscere il nostro ospite. E quindi vediamo che cosa succederà. Allora, io inizierei, vi invito a... buonasera a tutti, 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 Alice, Giuseppina, Valentina, Katia. Allora, io entro in contatto con la mia anima, entro in contatto con il mondo spirituale e chiedo di far arrivare i vostri cari, soltanto per voi che siete nella diretta e che potete riconoscere, dove possono essere riconosciuti. Chiedo a voi di, non lo so, mandare amore a voi stessi, quindi dentro di voi, a voi stessi, a voi stessi e di mandare poi questo amore nel mondo spirituale. Quindi una riflessione che vorrei farvi fare è che per poter contattare il mondo spirituale, i nostri cari, ci dobbiamo voler bene, ci dobbiamo amare, anche noi, perché la vibrazione è quella. Quindi prestate attenzione anche su quanto voi vi volete bene, su quanto voi vi amate. Così è più facile anche la connessione con il mondo spirituale, perché alziamo la vibrazione, va bene? E poi fa bene al cuore, fa bene all'anima volersi bene. Allora, io sono pronta, qui è tutto pronto, la mia candela davanti e la mia candela dietro e iniziamo. Vediamo chi arriva. Allora, la prima persona che percepisco è un'energia femminile, sento che sto parlando con una signora che è trapassata intorno ai 70 anni, sento che questa signora in realtà si tocca le ginocchia e mi dice che prima di trapassare lei è caduta e si è fatta male alle ginocchia. Ok? Non credo che sia la causa della morte, però faccio parlare la signora. Mi dice che ha queste ginocchia che gli fanno male, che è caduta in ginocchio e che si è sbucciata ai ginocchi come i bambini. Allora, sento che quando la signora è trapassata suo marito era ancora in vita, perché lei ha avuto da ridire su questa cosa. Dice, mio marito alla fine, che era sempre pieno di acciacchi, mi fa sentire che lei ha assistito il marito, che non stava molto bene, però comunque lei è andata prima dall'altra parte. Pensava di fargli, diciamo, un torto, mentre invece lei dice qui, in realtà io sto molto bene. La signora mi dice di essere una mamma, di essere stata una... Allora, in realtà lei si sente ancora mamma, è giusto, però è stata una mamma nel senso che mi fa sentire la famiglia, mi fa sentire una prevalenza di figlie femmine, però c'è anche un maschietto. la signora, la sento, che cammina molto, gli piaceva molto camminare, camminare e camminava anche molto veloce, ok? Lei camminava anche molto veloce e anche quando era più grande di età, quindi è proprio un suo modo di... un suo stile nel camminare, quello che cammina come una berzagliera, molto con passi ben decisi. Io sto seguendo le indicazioni della signora. Allora, la signora mi parla di un nipote, di un nipote maschio e mi fa vedere questo nipote come se avesse sbattuto il viso. Adesso, da pochissimo tempo, mi fa vedere un graffio o forse una cicatrice sulla guancia di questo bambino, di questo suo nipotino. Allora, come è trapassata la signora che sta facendo la vaga? Cioè, nel senso, scusate, io mentalmente glielo chiedo, ma lei va avanti con i suoi discorsi. È una signora veramente tenace e sa quello che vuole, però io la domanda adesso gliela sto facendo. Vorrei sapere, signora, come è trapassata? Allora, la signora mi fa sentire che è trapassata, allora, emoragia, sento un'emoragia, mi fa vedere tanto flusso del sangue che gira tutto insieme, tipo una centrifuga. Direi quindi una, sì, direi un'emoragia. Ok, da quanto tempo è trapassata la signora? Allora, da quanto tempo signora è dall'altra parte? Allora, credo che non è molto tempo che è dall'altra parte, io direi non più di 3-5 anni, ok? Sento che non è molto che è nel mondo spirituale. Allora, intanto se c'è qualcuno di voi che può riconoscere almeno l'80% delle evidenze che ha portato la signora, può cominciare a scriverlo, per favore, grazie. Rimango con la signora, sento la signora, vediamo, la sento respirare aria fresca, mi viene da pensare mentre è in vita, quindi potrei interpretare in questo caso, perché non me lo sta proprio dicendo lei, che vivesse in un paese un po' in alto, ok? Come altitudine rispetto a livello del mare. Ecco, mi fa sentire quest'aria fresca, questo senso di respirare bene, mi parla di aria pulita, lei respirava aria pulita. Sì, poi sento che la signora abitava in un posto dove i figli durante il le vacanze, l'estate, andavano a trovarla, ok? Quindi anche un posto, diciamo un paese dove era piacevole andare a passare un po' di giorni durante le vacanze. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, vado avanti con la signora. Allora, vado avanti con la signora. Signora, che cosa mi può dire? Allora, chiediamo del, li sto chiedendo del marito. Allora, chiedo del marito. Allora, la signora mi dice che suo marito, allora, che suo marito si spostava molto, si spostava molto per lavoro. Cioè, diciamo che la sua presenza era richiesta, come se, diciamo che si spostava. Ecco, questo è quello che percepisco. Lo sento, allora, sento che lui, il marito, faceva un lavoro legato ad un'azienda dove però lui, quando era in sede, lavorava proprio materialmente nell'azienda. Però era anche una sorta di rappresentante, ok? Proprio per spiegare che cosa si faceva nell'azienda. Ok. Allora, quindi, ho visto che Katia ha fatto il riepilogo insieme a Mirella, grazie. Se c'è qualcuno che può riconoscere questa signora, questa signora può cominciare a dirlo. Allora, io faccio il riepilogo in breve. questa signora è trapassata intorno ai 70 anni. La sento mamma, diciamo, che ha dei figli. Percepisco la maggiore femmine, però sicuramente c'è anche un figlio maschio. Sento che suo marito è trapassato dopo di lei. Percepisco un'emoragia. Sangue lei mi fa vedere il sangue che ha cominciato a girare in maniera anomala. Quindi potrei pensare una malattia. E poi queste ginocchia, come se lei fosse caduta. Queste ginocchia sbucciate che la facevano divertire. Questa cosa è una cosa curiosa che lei ha detto. Ma guardate, se, insomma, alla mia età dovevo cadere e sbucciarmi le ginocchia. Ok, vado avanti con la signora. Allora, signora, mi dica qualcosa di più preciso affinché possiamo riconoscerla nella sua personalità. Allora, alla signora non piaceva tantissimo cucinare. Che già è un po' particolare, di solito alle signore piace cucinare. Allora, non le piaceva tantissimo cucinare. Poi percepisco... percepisco... come se nella sua famiglia uno dei figli è ritornato a casa. Ok? Che è ritornato di nuovo a vivere con lei. Vediamo... buonasera a tutti. Allora, niente, io mi fermo, mi fermo e cerchiamo di capire se c'è qualcuno che può riconoscere la signora. Ciao Nadia, ciao. Allora, questa signora io non la sento qui come... no, però è da parte materna. Da parte materna. Quindi... no, allora, io credo che... cioè percepisco... lei mi dice che è qui come parte materna. Che cosa vuol dire signora parte materna? Che potrebbe esserci una figlia o una nipote. Ok? Da parte di madre. Da parte di madre. Allora, vado avanti. Sento... allora, faccio la descrizione di questa signora. Questa signora è abbastanza magra, ok? È una signora... sì, magra, asciutta. Un po' anche... come qui vedo le vene, che si vedono le vene. Quando un po' così, ecco, come sto facendo io. Sempre capelli raccolti dietro, non ha mai tagliato i capelli. Non aveva una grande passione per i vestiti, diciamo. Lei era più per la sua essenza. Non era per... non gli piaceva mostrare o essere... dover sembrare sempre a posto. Ok? Lei era più per se stessa. Più per se stessa. Andiamo avanti. Vediamo se c'è qualcuno che può riconoscerla. Altrimenti io porto un'altra evidenza e poi la lasciamo andare. Tanto perché, vedi, cosa vuol dire fare gli accordi con uno spirituale? Allora... scherzo, sto scherzando. Allora, vediamo. Allora, signora, se c'è qualcosa di più che mi può dire... Allora, lei mi fa sentire che qualcuno della... della sua famiglia aveva a che fare con le stazioni, con le stazioni dei treni, perché mi fa sentire questo suono... questo suono mi fa sentire come se appartenesse un po' a qualche membro della famiglia. Quindi anche stazione dei treni. Debora, non so che intendi per trapassata, però sì, la signora è trapassata. Sto parlando con una signora trapassata. Sì, intorno ai 70 anni, 3-5 anni più o meno. Sento questo la signora che mi dice come periodo. Ok. Io sento che qui c'è una donna, ok? Non so quanti uomini ci sono, però una donna che può... dove può essere... che può essere... che può riconoscerla. Allora... Allora, Deborah sembra mia nonna. Ok, Deborah. L'80% delle evidenze ti corrispondono. Io sento anche che uno, diciamo, dei figli è tornato a casa. se puoi capire anche questo, se... perché per lei è importante, di figlio maschio. Mi dice che stavano insieme, poi si sono lasciati e poi è tornata a casa. E anche, ovviamente, il resto delle evidenze, almeno l'80%. Allora, Katia, circa 3-5 anni fa, è una signora. Suo figlio è morto da poco giovane. Allora, Deborah. Ok. Allora, morto da poco giovane, quindi può essere quello che lei voleva farmi sentire, farci sentire che suo figlio è tornato a casa, nel senso che si sono uniti. Ok, allora può... ci può stare. Deborah, io l'importante è che... se tu mi puoi... confermare che, diciamo, l'80% delle evidenze che la signora ha portato per farsi riconoscere, tu puoi riconoscerle nella... in tua nonna. Ok? Diciamo che in questo momento, Deborah, solo tu hai riconosciuto la signora. E quindi questo, per me, è un dato importante. Ok. Aspetto. Ciao Fabiola, buonasera a tutti. Ho qui ancora la signora, perché appena viene riconosciuta vorrei portare il messaggio. Comunque la signora è qui per... diciamo... mentre Deborah, aspetto che Deborah mi risponde, io vorrei dire a tutti quanti voi quello che la signora mi sta... di cui mi sta parlando. La signora, per la signora... la signora che vive nel mondo spirituale, quindi diamo anche a lei, io la ringrazio per questo, mi sta dicendo che ognuno di noi nella... nella famiglia deve mettere l'impegno affinché la famiglia funzioni, affinché le relazioni funzionano. soprattutto, anche tra genitori e figli. Quindi a tutte le mamme che stanno ascoltando la diretta, il consiglio di questa carissima signora, dove dice che i genitori devono imparare, devono insegnare ai propri figli ad avere la relazione, i rapporti. Dobbiamo essere noi l'esempio. Grazie, signora. Allora, Deborah, io ieri ero durante una diretta, stavo scrivendo, mi sono resa conto che scrivevo, ma arrivava sempre dopo la mia risposta, e quindi mi rendo conto che forse tu avrai disposto, ma io ancora non sto leggendo. Ciao Alessandro, ciao Gabriele, ok, ciao Donatella, buonasera a tutti. Allora, Deborah, ci sei? Io vado avanti. Allora, Deborah, scusate ragazzi, rimango un attimo con la signora, va bene? Allora, sento la signora, diciamo che gli sto chiedendo che tipo di rapporto aveva con i suoi nipoti, con la sua famiglia, e lei è proprio di questo che vuole parlare, ok, proprio di questo rapporto nella famiglia, questo suo ruolo nella famiglia. Allora, Deborah, aspetto te. Emilia, buonasera, scusate la prima volta, ok, ciao, benvenuta. Mia madre è morta quattro anni fa, 72 anni di infarto, siamo cinque figli, ma una donna e quattro maschi. Allora, Emanuela, no, ti spiego perché una delle prime evidenze che mi ha portato è che la maggioranza dei suoi figli erano femmine, più femmine e meno maschi, ok? Buonasera, buonasera a tutti. Mio padre è ancora vivo, ma ammalato, e lei pensava che sarebbe andato via con lui. Allora, Emanuela, diciamo che l'età ci sta, la modalità del trapasso sì, allora, l'80% di tutto quello che la signora ha portato, ok? Quindi, se ti torna tutto quello che ha detto la signora, e l'unica cosa che non ti torna, che non torna, diciamo, nella percentuale dei figli, allora posso anche, possiamo ancora andare avanti, va bene? Perché c'è qualcosa che mi dice che Emanuela non è la tua mamma, perché poi io chiedo alla signora, ok? Sento, e non sento, ti vuole bene, ma sento che non è la tua mamma, ok? Emanuela? Allora, Deborah, il rumore del treno non saprei, va bene. Deborah, rispondi soltanto perché io sento che quando pronuncio il tuo nome, quando leggo il tuo nome, sento che la signora mi sorride, ok? Puoi dirmi se ti corrispondono almeno l'80% delle evidenze? Non fa niente se il rumore del treno non rientra, magari è una cosa che tu non sai, magari abitava da giovane vicino al treno, magari ha conosciuto tuo nonno vicino a una stazione, perché in questi casi è lo stato d'animo che è legato al sentire, magari, come ho detto prima, potrebbe essere una mia interpretazione. Grazie Alessandro, grazie Gaetano. Perché io sento Deborah più che altro perché lei quando parlo con te mi sorride, ecco perché. Ok Manuela, grazie, grazie che hai capito. Allora Deborah, ascolta, io sono con te perché sono sicura che sono con te. Lei mi sorride, come provo a portare altre evidenze mi fa la faccia un po' scocciata come per dire ma c'è solo lei più di così, quindi io sono con te Deborah. Allora, questa signora è una nonna molto molto particolare perché lei vuole parlare della non comunicazione, una cosa un po' particolare. Lei spesso non ha, non vi ha parlato dei suoi pensieri, dei suoi stati d'animo, mi fa sentire che spesso ha nascosto anche i suoi, se vogliamo dire, i suoi bisogni, non ha avuto un gran, non è stata una buona comunicatrice nella famiglia e questo che cosa ha portato? Ha portato anche a non creare l'unione fra i suoi figli e quindi fra i suoi nipoti. Allora, quello che vuole, che vuole dire a te, tu che hai questo, questo spirito invece diciamo di voler fare, di voler unire, di creare armonia, di farlo, di non prendere l'esempio sbagliato, ok? E di seguire il tuo cuore. Questo non è soltanto legato alle relazioni, Deborah, per te, ma è anche qualcosa che va al di là della famiglia. Lei mi dice di ascoltare quello che sono le tue percezioni. Mi dice che tu stai lavorando molto sulle relazioni, soprattutto sulle relazioni, sul non farti, sul non farti, sul non farti condizionare dagli altri. Io spero che tu possa capire questo, però mi dice che stai portando avanti, non che stai andando avanti nella direzione giusta, ma che questa sicuramente è la strada da intraprendere, cioè la tua forza, cioè ti sei imposta in questo periodo della tua vita ed è questa la condizione in cui devi andare avanti, ecco, sia con le persone esterne sia con la famiglia. Non ve l'ha detto, però lei vuole bene a tutti quanti voi e vuole che voi sappiate che il suo cuore era buono. Forse un po' non lo ha fatto vedere, ma lei aveva tanto amore nei vostri confronti e nei confronti dei suoi figli. Va bene, Deborah? Ok? Spero che questi consigli da parte di tua nonna ti possono risuonare in qualche modo, perché siamo in diretta e non posso entrare troppo nei dettagli, però ho cercato di farti capire su quali campi, non soltanto familiare, ma anche al di fuori. Parlo proprio di amicizie, di gruppi. Ok. Allora, saluto la signora. Grazie signora. Ok. Allora, buonasera a tutti quelli che sono arrivati durante il contatto. e grazie per non aver scritto troppo. Qualcuno sì, però non fa niente, perché magari non lo sapevate. Allora, adesso io vado avanti. Ciao Slavi! Che bello vederti. Slavi, Slavi, fantastica. Ieri ho seguito la tua diretta. Tutta. Ciao Eleonora, benvenuti a tutti. Allora, vado avanti e vediamo chi arriva. Chi c'è, anzi, perché ci sono tante persone che stanno qui. Come voi siete in diretta, anche loro sono pronte per parlare. Allora, buonasera a tutti quelli che si sono collegati adesso. Buonasera a tutti. Allora, vediamo chi c'è soltanto per voi che state seguendo la diretta. Io lo dico a alta voce, così sentite voi e sentono anche loro. Allora, vediamo chi arriva. Allora, adesso percepisco un'energia maschile, sento che sto parlando con un con un signore, sento che sto parlando con un papà, però, perché lui mi dice io sono un papà. Va bene. Sento che questo signore è trapassato intorno ai 70 anni, sento, lo sento, lo sento, lo sento, sento che ha, è un uomo di, di spessore, ma non soltanto per quello che dice, ma sento che aveva un ruolo importante e anche lavorativo qui sulla terra, quando viveva qui sulla terra. Sento, sento papà, sento figlie femmine, lui lo sento molto attaccato alle figlie femmine, lo sento molto attaccato alla famiglia, anche alla moglie. Come è trapassato questo signore? Allora, lui è trapassato con un tumore, sento, cioè, allora, lui mi fa sentire, mi fa vedere metastasi, ok? Quindi io quando vedo queste macchie, grazie Deborah, quando vedo queste macchie, capisco ormai, è un modo, il nostro linguaggio, ok? Io magari vado un po' oltre, però vi spiego che quando, chi fa la scuola, vedo che ci sono tanti allievi, sanno che cosa vuol dire quando si crea il nostro vocabolario personale, quindi io sento, lui mi fa vedere queste metastasi e loro sanno che io in questo modo capisco che è tumore. quando non sento sul corpo fisico ma quando mi fanno vedere, ok? Questo, sento questo signore parlare più lingue, ok? Cioè più lingue, sento che si è spostato, non so se sono due lingue o aveva rapporti di lavoro magari con persone che parlavano un'altra lingua. Ok, allora, intanto, chi può riconoscere in base all'età, in base alla modalità in cui è trapassato e a questo carattere così forte, può cominciare a scrivere. Allora, io sento comunque questo signore in un ruolo importante, intendo importante anche legato che ha a che fare legato alla, alla, non dico proprio alla giustizia, però, sì, è come se lui dovesse mettere ordine, cioè solo le cose giuste mi fa sentire, quindi potrei pensare che magari era un magistrato o un, un, un poliziotto oppure un, un avvocato o un commercialista anche, ok, qualcosa di questo tipo dove lui metteva ordine, proprio, e vedo che lui presenta le pratiche alle istituzioni, ecco, ok, vediamo se c'è qualcuno che può riconoscere questo signore, allora, poi lui insiste, quindi penso che dovrò fare anche la descrizione fisica, lui mi fa vedere il suo aspetto e mi dice puoi anche parlare del mio aspetto, ovviamente quando lui si è presentato si è presentato veramente molto elegante, un signore ben distinto, quasi come se non dimostrò, non perché 70 anni, però non sembrava nemmeno che avesse 70 anni, proprio un bell'uomo e anche i suoi capelli non erano molto brizzolati, diciamo che ha mantenuto un po' il colore, ok, un castano scuro, quindi forse magari per, se ci sono più persone che identificano il loro papà, in questa maniera può darsi che riusciamo ad entrare un po' più nello specifico, allora, vediamo, allora, Loredana, vediamo, allora, Enza mi dice mio papà vado avanti con i messaggi, leggo, Loredana mio padre è morto 18 anni fa, tumore 72, sì, giusto, figlie femmine, poeta, scriveva italiano e dialetto, allora, il mio papà aveva un'impresa edile, ok, Enza, allora, Enza aveva a che fare con l'estero e con clienti che parlavano un'altra lingua, perché io sento gli atti, ok, qualcosa che ha a che fare con gli atti che andava presentato, quindi un'impresa edile, non so se lui vendeva anche, quindi c'era questi atti magari che faceva dal notaio, perché vedo proprio le carte dovevano essere tutte sistemate, e lui si occupava anche di questo, importante, è importante questo, vado avanti però, vado avanti, allora, lui mi fa vedere che nella sua vita sono arrivati anche, sono arrivati anche dei nipoti, ok, mi fa vedere che ci sono dei nipoti, sento almeno tre nipoti, sento almeno tre nipoti, che, sento, tre nipoti, gli sto chiedendo se mi fa vedere la relazione con questi nipoti, però in realtà io non credo che li abbia conosciuti, o comunque i nipoti non si ricordino di lui, perché, perché non, non riesca a vedere, non mi fa vedere i momenti che ha passato insieme ai nipoti, ok, quindi, allora, Enza, Loredana, rimani, perché magari la lingua ha qualcosa a che fare, come ho detto prima, lui mi parla di lingue, quindi poeta, potrebbe essere il suo modo di esprimersi in maniera diversa rispetto alla voce pronunciata, è un altro modo di esprimersi, non la poesia, quindi, rimani con me, perché quando leggo il tuo nome, non so, ma sento una vibrazione un po' più veloce da parte di questo signore, allora, andiamo avanti, allora, Enza, no, non è lui, ok Enza, infatti sentivo che non c'eravamo, allora, Loredana, sì, allora, sì, mio due femmine e un maschio, sì, conosciuti due, erano piccoli quando è andato nell'oltre, ok, infatti piccoli piccoli, allora, rimani con me, Loredana, Emanuela, mio papà era trasferito all'estero, morta a 76 anni, due figlie femmine, tre nipotini non conosciuti, uomo di grande spessore, allora, Emanuela, ok, rimani con me, perché c'è l'estero, quindi c'è questo discorso delle lingue, puoi capire il lavoro, il lavoro di, il tipo di lavoro, questo lavoro, al di là dello spessore come uomo, come persona, ma se puoi capire anche le carte, qualcosa che andava timbrato, che andava consegnato, qualcosa che ha a che fare proprio con il sigillo da parte delle istituzioni, perché queste carte per me sono importanti, va bene, perché poi queste carte tra l'altro hanno a che fare anche con il messaggio che lui vuole portarci, ok, che vuole portare, sento, però, allora, Manuela, è tuo papà, perché io sento che lui vuole, mi dice che qui c'è la figlia, cioè c'è una figlia che può riconoscerlo, ragazzi, se c'è la figlia come va a non riconoscere vostro papà, non sa, rabbia pure, allora, allora, vediamo, allora, Loredana e, Loredana e Manuela, io vado avanti con questo gentiluomo, ok, allora, vado avanti, no, non arrivano da soli, non chiediamo niente noi a loro, allora, rimango con questo signore, allora, vediamo che cosa mi può dire questo signore, allora, sento, sento un neopatentato in casa, qualcuno che sta per prendere la macchina o che ha fatto l'iscrizione a scuola guida, comunque mi fa vedere la prima iscrizione alla scuola guida, potete riconoscere questo racconto, questa cosa che mi sta dicendo questo signore, rimango ovviamente con voi, adesso, in questo momento, sento una cosa curiosa, io la voglio dire, una cosa curiosa, sapete, ci sono delle persone che portano o un fazzoletto o un qualcosa nel taschino, ecco, lui, dopo che è arrivato, diciamo, mentre siamo qui, che parliamo, si sistema sempre qualcosa nel taschino, magari, questo può aiutarvi a farlo riconoscere come un gesto, diciamo, che gli apparteneva, allora, aspetto, perché ho capito che qui voi scrivete, ma i messaggi mi arrivano molto tempo dopo, e, 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 con questo signore gentiluomo, è molto gentile lui, è anche molto paziente, ecco, percepisco la sua pazienza, lui mi dice che da piccole, le sue figlie, con le sue figlie, era molto paziente, soprattutto, quando era ora di fare i compiti, perché mi fa vedere che non c'era sempre, perché lui, quando c'era, diciamo che, più che altro borbottava, però, quelle poche volte che c'era, si metteva vicino, e, 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 e seguiva, e seguiva, cercava proprio di, di stare lì, e quando sbagliavate, voi figlie, lui cercava proprio di trattenersi, e dire, ma come fanno a fare questi sbagli così banali, e quindi lui era tanto paziente, allora, Loredana mi scrive, ho scritto 5 libri, e lui si occupava di tutta la burocrazia della famiglia, di tutta, i nostri fratelli, la penna sempre nel taschino, ma nessuno ne ho patentato, si, molta pazienza, ok, allora, perché Loredana, come ho detto prima, io, se ti tornano tutte le evidenze che ho portato fino adesso, tranne la ne ho patentato, che potrebbe essere invece che magari c'è qualcuno in casa che, forse è nell'età di prendere la patente e ancora non la prende, perché potrebbe essere anche questa, ok, la interpretazione, perché lui mi parla di foglio rosa, di patente, quindi magari c'è qualcuno che dovrebbe prendere la patente e magari non l'ho ancora fatto, ok, no, niente compiti insieme, no, niente compiti insieme, allora, ok, allora Manuela, no, perché tutti e due, niente compiti insieme, però lui mi fa vedere invece che, che raramente, come ho detto prima, raramente faceva i compiti, però, quando si metteva vicino a voi, lui era paziente, aspettava, ecco questo, non era fare i compiti, bisogna fare attenzione anche al modo in cui loro ci parlano, ok, ok, allora, Katia, grazie perché ha fatto questo riepilogo, ci sono più riepiloghi che loro hanno fatto, quindi, se c'è qualcuno che può riconoscere questo signore, trapassato intorno ai 70 anni, fisicamente ne dimostra di più, almeno questo è quello che io ho percepito, ben vestito, questo fazzoletto che si sistema, questo lavoro che ha a che fare con le carte, con i sigilli, che ha a che fare con l'istituzione, due figlie femmine, sento i nipoti, sento lo studio, ok, sento questo accompagnare, avere pazienza, poi c'è anche un qualcosa che ha a che fare con due lingue, non che parlasse due lingue, però, non lo so, anche questo suo parlare in due modalità, ok, allora, vediamo, allora, Antonella, papà trapassato per tumore 60 anni, sì, questa è la causa della morte, tumore, ok, tre figlie femmine, un maschio, ok, quattro nipoti, ne ha conosciuto solo uno, ok, parlava all'americano benissimo, ok Antonella, ok, allora, Antonella, le sigarette sistemava nel taschino, Loredana, ok, ha dato l'esame di terza media, no, un nipote, non è patentato, ma non ho più notizie, magari lo sta facendo adesso, ok, papà era sempre all'estero e quando lo incontravamo era paziente, italiano e dialetto milanese, tumore, ok, allora, Antonella, tu puoi capire quando quando parla della delle stare vicino poche volte durante i compiti, ma io parlo di voi piccole però, cioè, di parlo di voi elementari, non parlo delle scuole superiori, perché questo è un qualcosa evidentemente che a lui è rimasto un po' dentro, come un qualcosa che avrebbe voluto fare ma che non ha fatto, dice poche volte vicino, ma ho aspettato con pazienza, addirittura lui mi fa vedere che vi prendeva la mano per cominciare, quindi parliamo proprio della prima elementare, della seconda, questo particolare della sua vita che lui ricorda e quindi io l'ho espresso a voi, ok, che state seguendo, perché magari per lui è importante questo, ok, quindi Manuela, allora, scusate che io faccio un po' di confusione con i messaggi, allora, per favore, chi riconosce l'età di questo signore del trapasso, la causa della morte, figlie femmine, i nipoti, almeno tre nipoti, che non ha conosciuto o che i bambini, i nipoti non si ricordano del nonno, quindi proprio nei primissimi anni lui è trapassato, quindi non c'è contatto con questi nipoti. Di grande spessore lo sento molto intelligente, sento una persona anche colta, sapiente, che ha letto molto, ha studiato molto e lo sento risolutivo, elegante, questo suo mettersi la mano nel taschino da quando è arrivato, ecco, queste evidenze, per favore, chi riconosce queste evidenze può cominciare a scrivere riconosco l'80%, così io riesco meglio, va bene? Perché queste evidenze che adesso io ho fatto a riepidoco sono più importanti, perché sono le prime che lui mi ha portato, ok? E quindi per me queste sono quelle che devono essere certe, perché è il mio modo di sapere, poi il resto magari io posso interpretare, ma le prime sono certe che sono quelle che possono farlo riconoscere, Loredana, ok, allora Danila, mi ricorda però mio zio trapassato a 76 anni, scorso per tumore, faceva il tipografo, ha imparato l'inglese perché le faceva studiare a due figli e tre nipoti di cui uno sta per prendere la patente, l'unica nipote che non ha conosciuto è la mia, che è nata da 5 mesi, la tua nipotina, allora, 76 anni, tuo zio, allora Danila, io sento però che lui è papà, ok, sento che lui è col papà, in realtà io sento che sono o con Antonella o con Loredana, ok, ne sono quasi certa, loro scrivono molto vicino, adesso io porterò un'altra evidenza in più, ok, affinché magari tra voi due possiamo riuscire a mettere a posto il contatto, anche se mi sento molto vicina a Manuela, ok, però vado avanti, vado avanti, allora, Lorena, rimani con me perché tu hai riconosciuto tutte e tutte le evidenze, allora, sistema, ok, e vediamo, allora signore, qualcosa di importante che posso, allora, lui mi fa vedere la ginnastica, mi fa vedere che c'è qualcuno, no, c'è qualcuno, forse la figlia, sto parlando di una di voi due, ok, di una di voi due, mi fa vedere che ha cominciato a camminare velocemente, ha cominciato a muoversi finalmente e a prestare attenzione al fisico, ok, ecco, mi fa vedere proprio il movimento, qualcuna di voi dice come se o che si è segnata in palestra o ha deciso di iniziare un'attività sportiva che può, che può, che può proprio cambiare, nel senso che ha deciso di prendersi cura del fisico a livello proprio di fiato, di fisico, fisico, ok, allora, è magro? Sì, allora, come ho detto prima, lui mi ha fatto vedere la sua immagine, un uomo magro, alto intorno a un metro e sette, un metro e sette, no, io sono alta un metro e sessanta, un metro e ottanta più o meno, non più di un metro e ottanta, tra un metro e settantasette, ok, un metro e ottanta, magro, lui, tra l'altro, mi fa vedere che gli piaceva, ecco, anche questo è importante, lui si vestiva molto bene, a lui piaceva vestirsi bene, sempre a modo, quando lui usciva, usciva sempre che sembrava quasi come se andasse a un incontro importantissimo, sempre vestito bene, con il vestito da uomo, quindi pantalone, camicia, poi in casa invece amava qualcosa di più sportivo, come arrivava a casa lui si cambiava, anche il sabato e la domenica, lui invece si vestiva molto più easy, ok, voleva essere, si voleva sentire comodo a casa, e lui piaceva tantissimo stare a casa il sabato e la domenica, lui mi fa sentire proprio che per lui era piacevole stare a casa il sabato e la domenica in famiglia, va bene? ok, allora, puoi vedere se era altissimo, Antonella non era proprio altissimo, come ho detto un metro e settantotto, un metro e ottanta, però non credo che un metro e ottanta sia proprio altissimo, ecco, ok, ok, vado avanti, allora, Loredana e Antonella, potete riconoscere questa evidenza, c'è una di voi che ha cominciato a lavorare, ha deciso di andare a fare ginnastica, è uscita, ha fatto stretching, non lo so, qualcosa di questo tipo, allora, per motivi di saluto ho iniziato Pilates, papà però non era molto alto, ok, ok, Emanuele, Allora, io cammino molto, Antonella, ok, allora, io sento che sono con Manuela, sento che sono con Manuela perché perché lui quando adesso ho chiesto per chi sei qui e quando ho letto Manuela lui mi ha detto sono qui per lei, allora Manuela io non ricordo tutto quello che ho detto che ho raccontato di lui però non ho riconosciuto tutte le evidenze ok però io credo che le evidenze principali quelle che lui ha portato per farsi riconoscere possano siano state riconosciute ok questo te lo chiedo se mi puoi scrivere proprio scritto sì le prime evidenze sono state tutte riconosciute perché mi è importante ok però io Manuela sento che sono con te sono con il tuo papà più che altro ok allora Manuela perché è qui il tuo papà perché è arrivato prima perché continui a chiamarlo e a chiedere come mai allora sono con infatti Manuela immaginavo che le prime fossero state perché lui mi dice tu hai chiesto di portare delle evidenze importanti all'inizio io le ho portate tutte e lei mi ha riconosciuto quindi apposta ho soltanto voluto chiedere confermate ma anche per gli altri che ci stanno seguendo ok è giusto che noi diamo che sia certo insomma che il tuo papà che sta parlando con te ok allora leggo un attimo Angela ma io sono con Manuela allora mi sono collegata adesso mi ha mandato un messaggio che ha preso la patente allora Angela ascolta sicuramente queste evidenze ti tornano però tu non c'eri nella diretta ok Manuela è qui da prima e poi sento che è il suo papà ok che sto parlando con lei per lei è venuto ok ci sono state anche altre persone nel gruppo che hanno riconosciuto altre evidenze un po' come te però sono con Manuela va bene grazie grazie Angela però per essere arrivata anche adesso in questo momento allora Manuela ascolta è un messaggio un po' diciamo sotto forma di metafora ma non che lui me lo sta dicendo sotto forma di metafora ma sono io che cerco di tradurlo affinché tu possa capirlo hai fatto bene Angela hai fatto benissimo sì grazie allora la vita è fatta di cambiamenti quindi questa è una cosa che tutti quanti sappiamo non ce lo sentiamo ripetere tante volte però il tuo papà è qui per dirti che la forza sta nel saper scegliere ok nell'avere il coraggio di fare la scelta diciamo che tu ci sei quasi ti manca mi dice di non pensare cioè quello che ti blocca sono le aspettative allora prova a prendere questa decisione che ti sta girando da un po' da un po' di tempo non in base alle aspettative ma di prendere questa decisione perché è quello che in questo momento ti fa star bene senza aspettative ok io spero che tu possa capire il messaggio il messaggio da parte del tuo papà lui vuole dire che anche lui ha fatto tante scelte dove ha sacrificato un po' le relazioni soprattutto il vostro amore soprattutto la sua presenza nei vostri confronti quel tipo di presenza che tu ancora oggi senti e che cerchi magari di trovare nel compagno e negli amici spero che tu possa capire questo se non non riesci a capire bene il mio numero è su facebook mandami un messaggio perché io non so chi sei non so niente di te quindi mi mandi un messaggio e io magari ti rispondo con il messaggio ok così magari posso spiegare meglio e non in diretta davanti a a tutte queste persone ok ok con papà un continuo dialogo esatto sì sì lo so lui mi fa sentire che tu fai domande e quindi lui sta cercando di comunicare ho tante aspettative ma non so cosa scegliere vero papà non c'era mai per lavoro ok grazie Manuela per questo però tuo papà c'è e in qualche modo vuole cercare di ricompensare il tempo e lo spazio che non ha dedicato a tutti quanti voi della famiglia anche alla stessa mamma no lo mi fa sentire che anche l'esempio che lui ha dato di coppia a voi figli non è stato un bellissimo esempio ok ma io gli sto dicendo mentre parlo con voi che quasi tutti noi facciamo questi sbagli purtroppo quasi tutte le coppie non sono più un esempio per i loro figli siamo tutti un po' un po' separati un po' che non vogliamo ecco questo è il messaggio che ha detto la signora prima all'inizio non cerchiamo di ricostruire rapporto non vediamo mai quello che c'è di buono ok invece c'è tanto quindi un messaggio io credo che tua mamma non so se è ancora viva perché mi fa sentire che anche il rapporto con tua mamma vuole parlare un po' di sua moglie quindi se me lo dice a me vuol dire che non è con lui credo se puoi rispondere puoi confermarmi questo e quindi anche tanto amore per tua mamma da parte sua perché anche con lei ha avuto delle mancanze e gli dispiace tantissimo di questo però vi ama e vi sostiene sa che è tutto un po' astratto che è tutto un po' si a volte voi credete in lui a volte non ci credete avete sicuramente bisogno di più evidenze sul piano fisico e lui ci sta provando va bene Manuela ci sta provando chissà magari di fare qualche scherzetto in casa allora anche a mamma mancava era innamorato pazzo mamma non c'è più ok allora sta parlando comunque del rapporto della mamma ok perché non lo sento vicino in questo momento non sono insieme ok quindi era forse per ricordare a voi della mamma anche ok va bene l'importante è che tu hai hai percepito questo questo amore che lui vi sta portando che ti sta cercando di trasmettere ok allora ringrazio il tuo papà e un'altra cosa curiosa perché il tuo papà mentre io ho sempre questo brutto vizio di ogni volta che sta per andare via dico ma vuoi dire qualche ultima cosa e lui è possibile che in casa c'è qualcuno che debba portare non dico una cosa assurda però le scarpe ortopediche che magari oggi non si usano più magari si usavano quando noi eravamo piccole 40 anni fa adesso non si usano più però mi fa sentire come un dover sistemare la camminata non so qualcosa di questo genere se puoi capire Emanuela il senso di questo di questa informazione che mi ha portato proprio prestare attenzione al camminare al modo di camminare come se ci fosse qualcuno che cammina male in casa che va corretto ecco ok mio nipotino ok allora mi raccomando seguitelo ok seguite bene questo nipotino perché forse ecco è proprio a conferma va seguito da un medico qualcuno che può correggere affinché tutto si risolva per il meglio ok adesso lo saluto veramente va bene allora saluto questo questo papà meraviglioso mi dice che in casa c'è sempre un contenitore con delle caramelle con delle cioccolate più che altro sento il sapore della cioccolata mi fa sentire questo sapore questa passione per la cioccolata non so se se è da parte tua o da parte sua però lui mi dice condividiamo insieme questo questo rituale diciamo non so se era una cosa che facevate voi quando eravate piccoli o lui quando eravano i nipoti insomma tra di voi qualcosa che ha a che fare con voi adesso lo saluto ok scusate ma mentre faccio i saluti con loro io riesco sempre a percepire qualcosa in più e poi mi dispiace lasciarli andare o non farli parlare bene Manuela io spero che tu abbia sentito e percepito l'energia del tuo papà sicuramente da parte tua c'è stata una grande una grande volontà e un grande intento proprio di conferma da parte sua come se avessi sfidato anche lui anche tu il mondo spirituale un po' come ho fatto io oggi ma non ha funzionato perché sono riuscita soltanto a prendere e a far parlare soltanto due persone però non fa niente comunque la mamma di prima ha parlato un po' per tutto il gruppo questo impariamo sempre che quando i nostri cari ci portano i messaggi dall'altro mondo nel messaggio c'è sempre qualcosa che risuona anche a noi magari è una risposta a una domanda quindi prendiamoci anche per noi i messaggi anche se non sono i nostri cari ma ce li prendiamo lo stesso perché funziona anche così e qui diciamo un po' quello che ho imparato da studente quando ero nella scuola di Slavi è quello che adesso insegno come insegnante perché niente è un caso non ci sono le casualità ci sono tante sincronicità quindi una parola pronunciata da qualcuno vicino magari è la risposta alla nostra richiesta è tutto un mondo di magia bisogna sapere entrare e percepire la magia anche del mondo dei trapassati perché loro sono sempre vicini a noi però dobbiamo creare la magia affinché loro si riescano a manifestare Anna Rita vero come il discorso delle aspettative è risuonato brava Anna Rita magari qualcosa risuona allora quando sentite che vi risuona che cosa vuol dire risuona? quando quel pensiero entra in contatto con la nostra anima va in risonanza con il corpo fisico e il corpo fisico reagisce ok? e quindi vuol dire che ha qualcosa a che fare con voi quindi se non capite lavorate al contrario oddio ho sentito qualcosa allora presto attenzione fammi un po' ascoltare di nuovo quella frase ok? grazie a voi Agnese grazie a te grazie Anna ciao Anna ciao Katia ciao Daniela allora io in questo canale sarò precisissima nel terminare la mia diretta però vi ringrazio tutti vi voglio bene un abbraccio al mondo spirituale ringrazio sempre il creatore il grande capo che mi permette di fare questo e di farlo anche a voi comunque perché ci aiuta a tutti quindi ringrazio il mondo spirituale ringrazio voi vi auguro una buona cena ciao Danila ciao Stefania ciao Manuela ciao Alessandro ciao Anna Rita